Il Movimento 5 Stelle ci aveva raccontato che il reddito di cittadinanza sarebbe stato lo strumento fondamentale per sconfiggere la povertà, per aiutare le persone a trovare il posto di lavoro tanto sperato. Purtroppo viene svelato il blef. Nella relazione della Corte dei Conti al rendiconto generale dello Stato 2019 si dice che solo il 2% dei percettori di reddito di cittadinanza avrebbe trovato un posto di lavoro. Il 2%. In pratica gli unici che hanno trovato posto di lavoro con il reddito di cittadinanza sono i navigator, che erano quelli che il lavoro lo dovevano trovare, a chi percepiva il reddito di cittadinanza. Tante volte abbiamo spiegato che lo strumento del reddito di cittadinanza era uno strumento di puro assistenzialismo, fine a se stesso, per comprare il consenso della gente. Siamo stati accusati di ogni nefandezza. Abbiamo spiegato che quei soldi si potevano spendere meglio, sì, perché con 8 miliardi di euro l'anno buttati nel reddito di cittadinanza si poteva sì trovare lavoro a un sacco di gente. Si poteva abbattere il costo del lavoro, si potevano fare tantissime cose che non sono state fatte. Perché con i 5 stelle al governo, con la sinistra al governo, è così. Sprechi, marchette, bonus, monopattini, soldi buttati nel cestino. Il Movimento 5 Stelle, che era il partito che doveva eliminare gli sprechi e i privilegi, in realtà è il partito che più di tutti ha moltiplicato quegli sprechi. Ma arriverà un giorno in cui gli italiani potranno sdebitarsi.